Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono tornato nella mia solita postazione, oggi torna l'episodio farm della settimana, quindi vediamo un attimo quali sono i migliori progetti dove poter mettere a rendita in particolar modo stablecoin, ma non solo perché ho visto nei commenti che eravate particolarmente interessati ad alcune coppie, in maniera specifica soprattutto alle coppie croatom o comunque quelle riguardanti il mondo di cosmos, quindi andremo a vedere anche quelle verso la fine. Partiamo subito con protofy che è un protocollo su blockchain phantom di cui avevo anche già parlato nel video precedente delle top farm della settimana, chiaramente ma forse un po' anche come avevamo detto insieme in quel video, l'APY è calato molto, attenzione è rimasto comunque piuttosto interessante, anzi direi che è ancora piuttosto elevato, però era ovvio che non poteva essere sostenibile a quei livelli, se vi ricordate arrivava addirittura al 60, 70, 80% sulle stablecoin, infatti anche il token stesso è calato leggermente da settimana scorsa che era magari a 0,8 più o meno del 50%, in realtà io non lo vedo come un drastico calo, sebbene sia importante il 50%, però dovete tenere conto che era salito veramente veramente tanto, no? Quindi era arrivato da 0,11 a 0,8, ci aveva fatto quasi un per 8, un per 7 e poi è tornato giù del 50%, ovviamente a questo si è aggiunto il fatto che è arrivata molta liquidità su questo protocollo che di conseguenza ha fatto abbassare l'APY. Nonostante ciò, ad esempio nella coppia MyUSDC, ma anche in altre di stablecoin, l'APY, anzi questa è un APR, è ancora piuttosto elevato, qua parliamo di 25,61% solo considerando il farming, c'è, attenzione, una deposit fee dello 0,25%, quindi vi ci vogliono più o meno 3-4 giorni prima di rientrare, tra virgolette, da questa deposit fee, ok? Quindi i primi 3-4 giorni vi servono solamente per recuperare quanto avete perso dalla deposit fee, da lì in poi invece è solamente profitto. Personalmente ritengo che comunque andrà ad abbassarsi nel tempo questo APY, probabilmente tenderà verso il 20 o leggermente sotto, che è una di quelle percentuali tipiche del mondo DeFi, quindi in questo momento potrebbe anche tranquillamente essere sostenibile a questi livelli, potrebbe comunque scendere lievemente, anche se non credo poi si abbasserà troppo, cioè magari arriverà al 15-18% e potrebbe anche rimanere su quegli interessi lì. Rimanendo sulla blockchain di Phantom, infatti il protofile non l'ho detto, ma è un protocollo basato sulla chain di Phantom, abbiamo Tarot, ne abbiamo parlato più e più volte, è un protocollo che a me piace molto, simile a Impermax Finance, che è un altro protocollo che a me piace molto, e anche qua ci sono delle pool parecchio interessanti, soprattutto per quanto riguarda la supply, quindi senza andare a sfruttare il leverage yield farming, in particolar modo su MIM, adesso mi pare che fossero leggermente più in basso, ecco già qui vedete in questa pool Phantom MIM, dove c'è una liquidità circa di 655.000 dollari, abbiamo un supply APR di MIM del 25%, oppure USDC My, con My al 15-16%, qui addirittura USDC MIM, abbiamo MIM al 39%, però ovviamente considerate che su queste pool c'è il cosiddetto arbitraggio, nel senso che quando una pool è così sbilanciata c'è un incentivo forte nell'andare verso quella pool, e quindi bene o male, con il passare del tempo, un po' asintoticamente, queste percentuali tendono un po' a convergere, quindi questo 39% non mi aspetto che rimarrà sempre il 39%, probabilmente andrà verso il 20-25%, anche questo qui un po' per andare a convergere, ad esempio con questo qui che rende il 25%, ok? Dovete tenere conto che si fa arbitraggio anche su yield. Tra l'altro c'è un 17.83% anche su TUSD, che è un'altra stable coin collateralizzata, sempre con dollari. Passando invece su blockchain di Avalanche, nel particolare su Platypus Finance, che avevamo già trattato un po' di tempo fa, ma che poi probabilmente non avevamo neanche più preso in considerazione. Allora, personalmente non lo sto utilizzando, però noto che comunque c'è sempre interesse verso questo progetto, e guardando la media degli APR, cioè quanto in media la gente guadagna, comunque le reward non sono affatto male, perché vediamo su SDT il 28, 21, 26, 28, cioè comunque si guadagna abbastanza bene, a mio avviso, anzi molto bene. Vi ricordo però, attenzione, che il funzionamento di Platypus è un pochino più particolare, nel senso che se voi non detenete alcun P2P o VEP2P, andrete semplicemente a guadagnare il base APR, che ha quindi 6, 6, 7, 5,7, pagato in P2P. Come potete boostare invece le vostre reward? Praticamente se detenete dei P2P e andate a loccarli in questo contratto di vesting, vesting escro P2P, quindi andando a depositare i propri P2P all'interno di questo smart contract, che li congela, li vincola, riuscite a boostarvi le reward qui dentro, ok? Infatti il meccanismo è stato fatto proprio appositamente per incentivare il loading del token P2P e magari anche il locking. Vi ricordo anche che mettendo i vostri P2P all'interno di questo smart contract si generano dei VEP2P ogni ora, cioè il senso è, si depositano, ipotizzate, un P2P e voi ve lo vedete qui, staked P2P, ogni ora voi andrete a guadagnare un certo numero di VEP2P in base a quanti P2P avete. Adesso non ricordo esattamente i dati, forse c'è anche scritto qui. Ecco, ogni, vedete che è scritto qui, ogni P2P messo in stake in genera 0,000038888 VEP2P al secondo. Ovviamente più tempo voi rimanete all'interno di questo contratto più guadagnerete questi VEP2P che vi boostano ovviamente le reward. E attenzione perché nel momento in cui decidete di ritirare i vostri P2P che avevate messo in staking lo potete fare in un qualunque momento però andrete a perdere tutti i VEP2P e quindi andrete a perdere anche tutti i boost all'interno di questa particolare pool, ok? dove avevate depositato la liquidità. Oltretutto vi dico che le reward sono interessanti nonostante la liquidità comunque sia veramente alta perché non parliamo di 2 o 3, 10 milioni ma di 210 milioni, 210 milioni, 150, 113 milioni quindi sono numeri importanti. Nonostante ciò comunque l'APY, l'APR, anzi si mantiene piuttosto elevato. E' chiaro che in un modo o nell'altro ci si deve esporre al token P2P cosa che può non piacere quindi va inquadrato bene ovviamente una strategia del genere non va fatta a caso. Mi sposto invece adesso sulla Kronos Chain perché ci sono delle pool particolarmente interessanti. Questo è WWS Finance che è uno dei principali DEX sulla Kronos insieme a MM Finance e nel particolare mi riferisco alla pool Cro Atom. Questa è particolarmente interessante a mio avviso perché permette l'esposizione al 50 e 50 quindi anche con un ribilanciamento automatico in questi due percentuali su due monete che a mio avviso sono entrambi molto molto forti sia Cro che Atom. Ovviamente questo è un mio parere personale però sicuramente non parliamo di shitcoin ecco questo credo che sia un giudizio quasi universale. La liquidità oltretutto è già comunque piuttosto interessante perché parliamo di 22 milioni e mezzo di dollari nonostante questo l'APR è considerevolmente alto 63% e vi dico anche che è piuttosto stabile nel senso che ovviamente quando era partita questa pool l'APR era molto più alto ed addirittura al 200-300% ma con il passare del tempo si è abbassato è arrivato all'80-60% e si mantiene piuttosto costante. Quindi è ovvio che l'APR è fortemente influenzato dal prezzo di WWS che è il token che si guadagna è influenzato dalla liquidità nonostante ciò io comunque la reputo un'ottima pool tra l'altro se non volete farlo in automatico avete la possibilità di farlo su Bifi adesso lo andiamo a vedere ed ecco qua infatti la stessa medesima pool Atom Cro che usa WWS quindi è proprio questa qui che vi stavo facendo vedere qui solo che qui su WWS direttamente dovreste fare tutto in manuale quindi fare l'harvest delle reward e poi se volete fare compound reinserire qui dentro. Invece tramite Bifi Finance ovviamente il tutto è automatico quindi voi depositate qui dentro e poi il resto lo fa lui vi ricordo che il deposito quindi l'approvazione dei contratti ma in particolar modo il deposito del prelievo su Bifi è leggermente costoso in termini di transazioni vi può costare anche dai 6 ai 10 cro però ovviamente poi è molto comodo e vi rende il 99% di APY ora voi mi direte come è possibile che qui rendeva il 63% e qui il 99% dunque guardiamolo insieme allora abbiamo il 57-58% di Volt APR cioè il farming che avevamo visto prima che tra l'altro qui non è esattamente aggiornato il 12.56% di trading APR cioè derivante direttamente dalle commissioni sui trade che è una commissione che qui in realtà è nascosta cioè noi non la vediamo in questo APR qui e oltre a questo ovviamente siccome Bifi fa l'interesse composto cioè continua a utilizzare la strategia da interesse composto 57 più 12 in realtà farebbe circa sul 70% ma considerando l'interesse composto si può arrivare al 99% che ragazzi secondo me è estremamente interessante quindi sia che lo vogliate fare tramite Bifi Finance quindi in automatico tra virgolette sia che invece preferiate il concetto del manuale magari perché avete una strategia diversa cioè voi potreste anche dire io deposito 50-50 di CROATOM però tutte le reward non voglio reinserirle qui ma voglio convertirle tutte in Bitcoin esempio oppure tutte in stablecoin oppure tutte in solo CRO solo ATOM ok? cioè possono esserci diverse strategie ovviamente su Bifi è la strategia tra virgolette massimizzante per le reward CROATOM la medesima pool in realtà c'è anche su Osmosis questa qui Atom CRO che però in questo momento rende di meno in particolar modo rende il 43% se si sceglie diciamo l'unbounding a 14 giorni la cosa che però non è considerata qui dentro in questo 43% ovviamente sono le fee sui trade quindi anche qui per sapere effettivamente poi quanto sarebbe l'APR l'IPY totale bisognerebbe aggiungere a questo 43% anche la percentuale derivante dai trade che purtroppo non è semplicissimo da calcolare bisognerebbe fare prima a vederlo proprio testandolo chiaramente su Osmosis non si può fare in automatico quindi in manuale dovreste fare il claim degli Osmo e poi eventualmente farci quello che volete vi dico subito il mio parere diciamo tra i due quindi tra Osmosis e Bifi su Kronos a livello di token farmabile preferisco di gran lunga il token Osmo e quindi prediligerei questa pool qui su Osmosis in quanto si farma direttamente il token Osmo però dipende molto dalla strategia che volete applicare perché se voi a prescindere non vi interessate né del token Osmo né del token WWS ma volete solo accumulare Atom CRO o anche un qualunque altro CRO o anche un qualunque altro token e quindi in ogni caso vendereste le reward probabilmente in questo momento è più redditizia su Bifi Finance o comunque su WWS Finance in quanto proprio rende di più caso diverso è invece quello che voi vogliate ad esempio esporvi a Osmosis ma senza comprarlo allora è ovvio che questa qui è la pool che fa per voi perché vi esponete ad Atom CRO che magari vi piacciono e già detenete e contemporaneamente guadagnate dei token Osmo che poi magari vi interessavano e quindi li detenete li mettete in staking li mettete in altri pool quindi io penso che in realtà la scelta migliore dipenda proprio dalla vostra strategia quindi se volessimo riassumerla è ovvio che se vi interessa il token Osmo e magari un'esposizione indiretta tra virgolette quindi senza comprarlo ma farmandolo allora vi conviene andare su Osmosis se in questo momento vi interessa solo la pool a rendita perché tanto trasformate di nuovo tutto in Atom e in CRO o solo in Atom o solo in CRO o in Bitcoin o in stablecoin o in qualunque altra cosa in questo momento è ovvio che rende di più qui questa pool qua su VWS o direttamente qua su Bifi per andare a fare compound un'altra pool su Osmosis che vi volevo segnalare era questa qui E-Euro UST che ha circa 7 milioni e mezzo di liquidità e che scegliendo sempre 14 giorni di Unbound rende circa il 15% anche qui solo dal farming vi dico subito anche qui ovviamente ci sono rendimenti migliori in giro però può essere sempre interessante qualora vi vogliate esporre come dicevo prima in maniera indiretta ad Osmo questa stablecoin E-Euro non la conoscevo allora l'ho approfondita ed è la stablecoin di E-Money e guardando il suo grafico in realtà più che una stablecoin ancorata all'euro cioè a 1 euro mi sembra una stablecoin ancorata a 0.95 euro perché se vedete il suo prezzo questo è il prezzo in euro è stata bene o male sempre fissa sui 0.95 0.94 poi ha avuto anche dei cali piuttosto importanti a 0.91 qui addirittura l'ha avuto a 0.89 0.86 che ovviamente è un calo veramente veramente importante in realtà si tratta ho letto di una stablecoin completamente collateralizzata quindi proprio tramite degli euro che vengono detenuti in custodia quindi in realtà non dovrebbero esserci dei rischi di stablecoin algoritmiche o sovracollateralizzate però purtroppo c'è anche poco volume quindi probabilmente c'è anche poco incentivo nell'andare effettivamente ad fare arbitraggio in maniera più corretta su questa stablecoin che stando al grafico purtroppo non esiste da molto perché almeno qui su CoinMarketCap il grafico arriva fino a metà di dicembre quindi non si ha uno storico enorme guardando questo grafico qui insomma come vi dicevo ma lo potete vedere anche voi è più che altro una stablecoin ancorata a 0.95 euro detto ciò comunque se vi può interessare c'era questa pool qui su Osmosis io ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fin qui vi chiedo di lasciare un bel like per supportare il mio lavoro e noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti